Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciaccheazione, oggi vi parlo di Belfast, l'ultimo film di Kenneth Branagh, che è la sua autobiografia e il ritratto di quando lui viveva da bambino a Belfast ed è stato costretto ad abbandonare la città per le rivolte che c'erano alla fine degli anni 60 fra i protestanti e i cattolici. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Ciaccheazione per non perdervi tutte le news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tipo. Belfast, allora diciamo subito che Belfast è girato interamente in bianco e nero e con alcuni momenti, tipo l'inizio, il film parte a colori con la Belfast attuale, una panoramica della città che ha visto anche la città dove è stato costruito il Titanic per esempio e ci sono moltissimi riferimenti all'inizio e tantissime cose che rimandano alla costruzione del Titanic e la capitale nordirlandese è la grande protagonista di questo film che mi ha molto impressionato a livello visivo, l'impatto visivo che ha con questo bianco e nero e il passaggio vedrete da voi dal colore al bianco e nero. Allora è girato in bianco e nero per dare anche l'idea di un passato e di una situazione che si è creata e che è durata oltre 30 anni in Irlanda del Nord con queste rivolte fra i protestanti e i cattolici e questo continuo combattere per la religione e per gli ideali religiosi anche tra persone che abitavano nello stesso quartiere. Il film narra le vicende di una famiglia, una famiglia protestante che vive in un quartiere di Belfast dove va relativamente d'accordo con i vicini, con gli amici, con i parenti e in particolare il film è narrato dal punto di vista di un bambino che è Buddy. Diciamo subito che Buddy è lo stesso regista che racconta un tratto della sua infanzia che è molto emozionale, che mi ha trasmesso molto l'impatto di quello che si doveva vivere all'epoca, ovvero del fatto che molte famiglie si trovassero in mezzo a queste rivolte, a questi scontri nei quali c'era anche di mezzo l'ira, la famosa ira, la mafia nordirlandese e la criminalità, per meglio dire la criminalità nordirlandese e che vedeva quasi tutti i giorni vedere scontrarsi gruppi facenorosi di una o dell'altra fazione. Sempre con questi ideali religiosi perché poi ricordiamo che il nordirlanda fa parte del Regno Unito mentre l'Irlanda no e in questo quartiere la famiglia vive una vita normale con la mamma, il papà interpretato da Jamie Dornan. Tra l'altro Jamie Dornan posso dire che si è tolto anche di dosso il personaggio di Christian Grey di 50 sfumature e è riuscito benissimo in questi anni anche attraverso la serie di V the Fall, non so se l'avete vista ma vi consiglio di recuperarla su Netflix, si è tolto di mezzo, si è tolto di dosso quella parte che era molto diversa rispetto alle parti che sta interpretando e che è un attore che sta migliorando tantissimo e che ho rivalutato anche grazie a questo film. Il papà di Buddy è interpretato da Jamie Dornan e lavora in Inghilterra. Torna regolarmente ogni 15 giorni a trovare la famiglia ed è un papà molto attento al futuro dei figli, al fatto che studino, che vadano bene a scuola e che si tengano lontano da questi scontri e da questi ideali religiosi. La religione è un po' il fulcro del film e della concezione che c'era all'epoca ma che spesso ritroviamo anche oggi di questi preti che inculcano delle idee di paradiso, inferno, di bivio, di vita da prendere. Se uno non dovesse prendere la retta via attraverso la religione cristiana, in particolare cattolica, sarebbe destinato alle punizioni più dure dell'inferno e quindi ad un destino di sacrifici e di penitenza. Queste cose sono messe in risalto anche dalla musica di sottofondo del film che a tratti è forse anche un po' troppo disturbante, nel senso che ci sono alcune scene che ho trovato che la musica fosse stata messa lì apposta per ovviare a dei silenzi che magari sarebbero stati anche troppo lunghi. Il film è fatto molto bene, dal punto di vista tecnico l'ho trovato spettacolare, la fotografia in questi film in bianco e nero deve essere il punto forte anche perché deve rendere benissimo anche la visione di un bambino. Il film è spesso, ci sono inquadrature dal basso proprio per far vedere il punto di vista di un bambino innocente, una figura che non capisce poi i motivi per cui portano le persone ad uccidersi fra di loro e a creare scompiglio in questi quartieri di una Belfast spettacolare. È una città spettacolare, non ci sono mai stato, io ho visitato Dublino in Irlanda, nella Repubblica d'Irlanda ma mi piacerebbe visitare Belfast perché ci sono delle inquadrature bellissime anche sulla città vera e propria come era prima e come è adesso. Quindi è il punto di vista di questo bambino che si trova tra i suoi giochi, i suoi sogni, la scuola, i film che guarda, lui cerca sempre nel cinema, ci sono tantissimi rimandi al cinema anche dell'epoca, lui cerca la sua strada, la sua via di fuga anche nel cinema e si vede che il papà ogni tanto lo porta al cinema e è bella la contrapposizione anche del direttore della fotografia a far vedere i film al cinema a colori mentre loro in sala sono in bianco e nero come tutto il resto del film. Per quanto riguarda il cast, allora io ho apprezzato tutto il cast e a partire dal bambino e sollevo una polemica, se polemica vogliamo chiamarla, io comincerei anche a candidare di più questi bambini ai vari premi cinematografici, cinematografici perché veramente sono bravissimi e perché no, perché un bambino non dovrebbe vincere il Golden Globe di turno o l'Oscar. A proposito di Golden Globe, è stato uno dei film più candidati agli ultimi Golden Globe, ma ha vinto solo per la miglior sceneggiatura che ci sta, ci sta bellissimo e non per gli attori. Gli attori, allora Jamie Dornan l'ho trovato magnifico, perfetto nel padre che si trova anche a dover scegliere di abbandonare la sicurezza di una città e di una situazione con i parenti, gli amici, il quartiere e la tranquillità che si erano creati per una vita migliore forse in Inghilterra, lontano dalla continua rivolta, le continue battaglie di quartiere fra protestanti e cattolici. Loro erano una famiglia protestante che però voleva rimanere ai margini di questa follia, perché è così che va chiamata anche la lotta intestina per la religione. Mi è piaciuta molto anche Catriona Balf, l'attrice, la moglie, la moglie di Jamie Dornan, anche lei è stata candidata ai Golden Globe e mi è piaciuta moltissimo questa attrice e ne sentiremo parlare, credo. Nonché Charan Hines, che è il Benz Rider del Trono di Spade, se avete visto la serie, avete capito a chi mi sto riferendo e fa la parte del nonno, del nonno del bambino. Bravissimi sia lui, sia Judi Dench, mi sono scritto i nomi così me li ricordo, Judi Dench che fa la nonna. Le parti più divertenti e significative del film, se vogliamo, sono proprio quelle in cui il bambino si confronta con i nonni per cercare di capire sia il perché la sua famiglia a un certo punto è costretta ad abbandonare la tranquillità, la sicurezza, il posto dove è nata, dove i suoi genitori si sono conosciuti, dove si sono amati, per andare in un altro posto per un futuro migliore, sia per la sua famiglia che per suo padre, che fa il Carpentiere a Londra, come abbiamo detto. Attori bravissimi, tutti e quattro, il bambino, bravissimo anche lui, la fotografia, come dicevo, spettacolare e mi è piaciuto molto perché è una sceneggiatura che poi ti accompagna nell'ansia, che ti crea anche la situazione in cui si viveva a Belfast e devo dire che non deve essere stato facile per il regista e la sua famiglia abbandonare la sua città per trasferirsi e anche per motivi che non dipendevano da loro. Credo che sia stata una cosa bruttissima. Mi è piaciuto la dedica finale nel film, non starò a spoilerarvi le vicissitudini dei personaggi, ma alla fine ce la dedica a chi è rimasto, a chi se n'è andato e a chi è dovuto partire, riferito alle tante persone nordirlandesi che nei trent'anni di guerra fra protestanti e cattolici sono stati costretti ad abbandonare questa magnifica città. Vi consiglio, ve ne consiglio la visione perché è un film davvero bello, credo che ci saranno molte candidature ai premi Oscar, è un film bianco e nero, fatto benissimo tecnicamente e credo che potrà bissare il premio per la miglior sceneggiatura e magari accaparrarsi anche quello per la miglior fotografia. Staremo a vedere, se l'avete visto ditemi cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su Ciaccheazione.